Le presidenze di queste due commissioni, la presidenza del Copasera appunto va all'opposizione. Noi essendo la forza d'opposizione più grande e quella che effettivamente da subito si è definita come forza d'opposizione deteniamo che sia giustissimo, sia anzi obbligatorio darci queste presidenze. Quindi non vedo il perché non darcele insomma.